Amore, come stai stamani? Non ti scileccare, che ti ci ho dato la mochina. Amore, fai la brava. Amore, che fai? Fai vedere come sei bella, amore mio. Eh? Sarai bella. C'è una bella canina di 10 anni, eh? Ora si va a fare una giratina, però non mi fa come ieri, eh? Che mi ha fatto scricchiola al ginocchio. Eh? Va bene? Eccola, bella, inferuscita. Eccola. L'importante è che si sia rimessa, perché quando... Siamo a posto. L'uno di Tarzan è arrivato. L'importante è che la mia cucciola si sia ripresa, che sia tornata alle sue attività. Ciao a tutti e buona giornata!